per i miei cioccolotti di pasta frolla versiamo 300 grammi di farina setacciata 150 grammi di burro 100 grammi di zucchero 16 grammi di lievito vanigliato e la scorza di un limone sbriciolate il composto fino a renderlo sabbioso 10 grammi di yeviti 10 grammi di biazza 10 grammi di biazza 10 grammi di biazza 100 grammi di rossi 60 grammi di biazza unite due uova intere e il 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 Grazie a tutti. Ora stendete il panetto. Fate dei cerchi. Farcite con la crema di nocciole. Farcite con la crema di nocciole. Facilissimi da fare. Velocissimi da finire. Provatele anche voi.